Le proteine costituiscono le fondamenta del nostro organismo, ne compongono la struttura e lo fanno funzionare mantenendolo in forma. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda quasi un grammo di proteine per chilo corporeo a persona. Se una persona pesa 60 chili deve assumere circa 50 grammi di proteine al giorno, l'equivalente di 8 uova. Per l'apporto di proteine si tende ad assumere alimenti di origine animale che sono salutari solo in piccole quantità, contenendo anche grassi che fanno male. Quindi è importante ricorrere anche a fonti più magre di proteine. Nutrilite All Plant Protein si avvale delle migliori fonti vegetali, quali soia, grano e piselli, per completare il profilo amminoacidico derivante dagli alimenti. All Plant Protein fornisce un apporto di 8-10 grammi di proteine a porzione, l'equivalente di un uovo e mezzo. In polvere, senza lattosio, può essere aggiunto a qualsiasi pietanza. In caso di consumo insufficiente di proteine, Nutrilite All Plant Protein offre la soluzione per colmare qualsiasi carenza.